buongiorno forgotten players bentornati ormai da due mesi dalle rilassanti vacanze estive siamo lì di accogliervi e di raccontarvi una marea di nuove notizie iniziamo subito dicendo che dal 25 ottobre è aperto il nostro server di counter strike global offensive in collaborazione con csgo ita poiché da ormai un paio d'anni questo gioco è diventato un importante esempio per gli sport in generale così abbiamo deciso di supportarlo pesantemente il server offerto da forgotten world a 32 slot e 128 tics ed è di libro accesso a tutti l'ip del server sarà inserito nella descrizione del video ormai dal 29 giugno in pesio il nostro master di europa universalis per eccellenza sta portando avanti una partita multiplayer la ricerca del buon senso chi non può essere riuscito a seguire i fatti di questa immensa partita potrà sentirci fortunato nel sapere che darò una breve descrizione della situazione attuale sono presenti tre poli principali rappresentati dalla francia dagli ottomani e il centro austria composto da prussia austria e talvolta danimarca i conflitti più importanti possono essere definiti attualmente quelli fatti dagli imperi centrali contro l'impero ottomano anche se nel contempo la francia ha assimilato tutto l'odio dell'europa la partita si sta avviando verso il terzo mese passando ora al server esedur vorremmo avvertirvi che del 24 ottobre è stato aperto spesso uno shop qui potrete trovare nuovissimi blocchi da usare come decorazioni tutti questi blocchi sono stati inseriti per dare più sbocchi alla vostra fantasia e farvi creare edifici e monumenti che potranno restare nella storia architettonica di esedur questo edificio si troverà davanti o accanto all'obiettivo cittadino trattato con spesso presente nel ramo economia e commercio il primo novembre si è tenuto l'evento pwe in tema halloween i vincitori sono stati fios classificato in terza posizione black souls classificato in seconda posizione e infine jamma 111 in prima posizione questo è tutto per esedur parlando di forgotten jet siamo felici di dirvi che è stata completata la pulizia della jet map ora i lag si sono ridotti parecchio dopo avverrà sul suolo le case dei player inattivi e tutte le costruzioni e le case senza claim il 2 novembre è uscito il forgotten galaxy se pensate che sia per un cellulare di una nuova linea di smartphone firmata forgotten world vi sbagliate questo sarà un nuovo server con molte mod tecniche orientate sul grande universo di star wars e sullo spazio adesso per favore un minuto di silenzio poichè il 18 ottobre è venuto a mancare un nostro storico collaboratore video forse il migliore colui che ha segnato profondamente il nostro canale youtube jumpy invece non è vero poiché il nostro amato jumpy ha deciso di prendersi la pensione e così lasciarci ora spazio agli spot spumeggiante dissetante fresca gustosa bevi for gottencola bevi for gottencola bevi for gottencola